Ciao a tutti da Saludatore, grandissima sorpresa, eccomi qui con un bravissimo, straordinario attore, Augusto Zucchi. Ciao Augusto! Un altro professorone. No, no, non ci mancherebbe. E come no? Il salutatore? Un allievo. E dove ha studiato per fare il salutatore? Sentiamo. Autonomo. Allora, io ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono da sempre. Gentilissimi, un saluto da parte di Augusto Zucchi. Grazie, ciao! Grazie a tutti.